Adesso ha detto una cosa molto importante, Polito, perché ha detto i porti devono restare chiusi senza quei barconi in mare perché poi alla fine effettivamente vedere quell'immagine era terribile forse però dobbiamo sostituire l'immagine del barcone davanti al porto con l'immagine del charter che porta gli immigrati nel resto d'Europa e questo è il passaggio che va fatto che è esattamente quello che non succederà, temo E certo, ha ragione Chi sottovaluta il problema dell'immigrazione in realtà sottovaluta l'opinione pubblica che è quella che poi vota e che fa vincere le elezioni a chi si dedica alla soluzione di quelli che la popolazione stessa vive come problemi e quindi io non sono convinto che succederà tutto questo perché anche all'interno della nuova maggioranza ci sono in proposito opinioni molto diverse, divergenti quindi attenzione poi è verissimo che certe immagini mostrate dalla tv le barche piene di gente ci mettono angoscia però a me risulta che anche tutti quelli malati che sono sulle barche quando poi arrivano a Lampedusa dopo dieci minuti stanno benissimo quindi Lampedusa è meglio di Lourdes perché alla terra firma si sta meglio perché guariscono all'istante allora attenzione a fare tutta questa propaganda negativa perché non è così cioè la realtà va descritta per quello che è per quello che immaginiamo e allora attenzione a tutti